Basta inviare un sms dai numeri Vodafone al 45511 per donare un euro a favore di Dino, il simpatico dinosauro testimonial del Museo Regionale di Scienze Naturali. Prosegue infatti la raccolta di fondi promossa da Regione, Vodafone Italia e Associazione Torino Città Capitale Europea per finanziare i lavori di ristrutturazione dello storico edificio del museo dopo i danni prodotti dall'incendio avvenuto l'estate scorsa.